Cosa ha comune una vettura Formula 1, una per il rally, una per il Gran Turismo o lo stock brasiliano con una vettura stradale? Le gomme o meglio l'evoluzione continua delle soluzioni fornite dalla Pirelli per le vetture da competizione e da queste a quelle stradali. Mescole, strutture, materiali vengono sviluppati prima per i campi di gara e lì testati per poi diventare una soluzione per le coperture usate tutti i giorni nelle condizioni più comuni che ogni automobilista deve affrontare. Ma è possibile questo travaso? E gli automobilisti comuni si accorgono di guidare oggi quello che ieri hanno guidato i campioni delle corse? Ricerca della prestazione al top per le monoposte di Formula 1 che spingono al limite le tecnologie dei pneumatici da 13 pollici. Una declinazione specifica per i Gran Premi di Formula 1 che si allarga a coperture con profilo ribassato da 18 pollici fornite al campionato stock brasiliano e progettate con una struttura adatta a sopportare il maggior peso vettura. Dalla pista alle competizioni rally, un altro fronte di ricerca straordinario nel quale il sistema pneumatico è impegnato nelle condizioni stradali più diverse e in situazioni ambientali estreme. La strategia di interscambio dei progressi tecnologici accelera il processo evolutivo con l'esperienza nelle corse Gran Turismo, un'altra insostituibile condizione di testing e acquisizione dati in pista. Coperture con profilo ribassato, battistrada slick progettate per vetture con elevati valori di potenza, condizione che apre la porta ad una nuova tipologia di sperimentazione. L'automobilista se ne accorge può non farlo, ma di certo va più lontano e più sicuro.